Al via al progetto Imprenditori del Domani, l'iniziativa promossa dall'associazione Carpe Diem è finanziata dal Ministero della Gioventù con il Fondo per le Politiche Giovanili 2009 nell'ambito del Bando per la Promozione della Cultura d'Impresa tra i Giovani. Gli obiettivi sono sicuramente quelli di dare una chance ai ragazzi che una volta concluso il loro percorso universitario potranno scegliere se fare un lavoro di tipo subordinato oppure entrare nel mondo dell'impresa. e quindi dare delle conoscenze sufficienti a poter aprire un'azienda e gestirla. Imprenditori del Domani si articola in un ciclo di seminari della durata complessiva di 72 ore. Ogni incontro prevede lezioni teoriche e pratiche su tematiche connesse alla creazione d'impresa. Abbiamo 12 moduli formativi che avranno un iter logico secondo cui lo studente potrà aprire una società quindi decidere quella che è la sua forma societaria conoscere le persone e gli enti con cui rapportarsi. Il primo incontro ha avuto come ospite il notaio Lorenzo Cavallaglio che ha tenuto una lezione sul diritto civile societario. Deve considerare attentamente la forma nella quale esercita l'impresa perché la forma comporta delle responsabilità e dei costi e quindi cercare di valutare insieme a dei professionisti che in questa fase iniziale svolgono attività di consulenza per esempio per quanto riguarda i notai spesso gratuita sulla scelta del tipo societario da adottare. Perché un ragazzo dovrebbe scegliere magari un tipo di società da avviare piuttosto che un'altra? In base a quali variabili? Dunque la prima che viene in esame ovviamente nella pratica è il costo perché chiaramente ci sono dei costi iniziali quasi doppi in un tipo mettiamo SRL rispetto a un tipo SNC dei costi di gestione, di contabilità eccetera più alti. Il tipo però è chiaro che iniziando un'impresa si pensa che vada bene ma se va male ci sono delle conseguenze molto differenti in una società che costa meno ci sono delle conseguenze personali sul patrimonio, in un SRL possono non esserci. Il progetto è stato realizzato con il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Roma la Sapienza e la Facoltà di Economia. I imprenditori del domani si rivolge a 50 studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che immaginano la propria carriera come self-employer. Hai già un'idea di impresa? Sì, diciamo io vorrei aprire un'agenzia di eventi che si occupi diciamo di organizzare eventi a 360 gradi nel senso specializzandosi comunque sugli eventi dello spettacolo e anche della comunicazione a livello musicale, organizzazione eventi.